oh sto finendo le gambe lo dico cazzo continuo a suonare il telefono qua non posso danni poi ti spiegherò ah sbagliato di là è chiusa ah sbagliato scelta e cazzo si va lui ha fatto dritto per dritto vabbè magari se stavo più su era meglio oh grazie Mauro che mi lascia qualche segno perché qua non si capisce dove cazzo passare ciao